Appuntamento con i sindacati in ITR per discutere sull'attuale situazione occupazionale ed aziendale. Come è noto l'ITR sta ristrutturando la sua composizione societaria, facendo nascere due nuove start-up nel settore della logistica e della distribuzione commerciale. Due società che possono ricorrere alle garanzie della FIMOLISE nei confronti del sistema bancario. Una soluzione tampone, perché il nodo resta sempre quello del contratto di sviluppo, ancora fermo al Ministero. Una strada da percorrere con tenacia e che l'assessore al lavoro, Petraroia, considera fondamentale per la difesa dell'azienda e dei suoi posti di lavoro. I prossimi giorni saranno decisivi e Bianchi resta in attesa delle risposte dovute da Regione e Ministero, così come i sindacati. Presidente Bianchi, che cosa chiede l'ITR alla Regione? Aiuti che la Regione sta studiando nei confronti di ITR. Parliamo di finanziamenti garantiti dalla nostra azienda, ma di garanzie che permetterebbero ai nostri banchi di affidarci in maniera importante. Speranze per il futuro, Presidente? Le speranze sono anche legate alla vicinanza delle istituzioni e poi certamente a una crisi di mercato che speriamo si sblocchi. Prima o poi si dovrà sbloccare. Noi chiediamo praticamente che venga tenuta fede alle promesse che ci furono fatte dal precedente governo. Ci furono fatte delle promesse, facevamo degli incontri con la Commissione Lavoro, dove ci fu detto che praticamente un minimo di intervento, in attesa che a livello centrale si possa avere il Ministro che poi deve mettere in piedi quello che è il fondo d'impresa per dare il contributo che è previsto dal piano presentato da Bianchi, in attesa che questo avvenga, visto che qua non si decidono a fare il governo, praticamente dobbiamo vedere un po' di trovare qualche soluzione con la Fimolise che dia delle garanzie in modo che riusciamo a bypassare questa fase critica.